L'ispirazione non la prendo e né la cerco, le idee vengono quando vogliono loro e in genere la mia esperienza mi dice che vengono attraverso l'incontro di una persona, la visita di un luogo e avvengono delle idee che non hanno niente a che vedere con quello che io sto facendo in quel momento. Questo nuovo progetto riguarda quello che tradizionalmente chiamiamo il paravento, ho pensato che poteva essere un'immagine urbana, del luogo dove vivo, che è Manhattan e quindi l'ho dovuto servirmi di forme che siano gioiose, colorate e che quindi aiutano ad avere in un certo senso una vita migliore. In un periodo dove ci sono dei pesanti problemi nella realtà, gli oggetti ci aiutano a vedere le cose con uno sguardo ottimista verso il futuro. Direi che la figura che mi ha molto influenzato è Cesare Cassina, il fondatore di questa compagnia. Mi insegna che bisogna essere semplici nella vita, non bisogna darsi importanza, bisogna essere aperti, bisogna essere curiosi.